Grazie ai tempi che sono passati e un grande significato rappresenta per me questo luogo e questo hotel. Nel 2000 capì che probabilmente era la mia ultima stagione, il rificio con Marco proprio in questo hotel mi fece capire che Marco era in una situazione molto difficile, sicuramente non potevo essere subcontrici di quello che mi stava facendo e decisi di partire e di smettere di correre in bicicletta. Tornando a casa poi ragionando e poi successivamente una telefonata di Marco mi fece ripensare alla mia decisione e quindi terminai la stagione del 2000 accompagnandolo al giro e anche al tour. Devo dire che questo...